Ragazzi, come potete vedere, sono le otto e mezza e finalmente è arrivata Sara! Perché, insomma, sembrava brutto anticiparsi a fare i capelli, quindi abbiamo detto, ma sì, facciamo il giusto dieci minuti ma di andare. Quindi è arrivata lei. Faremo un miracolo. Facciamo il miracolo, facciamo un... ...conciatura anni venti. E quindi, per tutti gli ospiti, è colpa sua. La mia parrucchiera è fatta tardi. Io non c'entro niente. E... Voilà! Pronta? Le jesufe... Oh, mi sento molto francese, così... Con questo è un da molto francese. Molto anni venti. Mi hai fatto come volevo, sono felicissima. Sei bellissima. Bellissima. Noi li abbiamo raccolti perché mi piacevano così tanto che ho preferito di averli sciolti. Meritano. Eccomi, ce l'ho fatta, sono in macchina. Una macchina anni venti. Può che sembra veramente... Grazie. Le luci si accendono. Sembra veramente di essere tornati inizio nel tempo. E sto arrivando, volete le caspette che sono arrivando. Ci sono. Sì. 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 Grazie a tutti. E' rosa, auguri rosa! E giochi a Facebook, ma è sorta un peccamento E' rosa, auguri rosa! E' rosa, auguri rosa! E' rosa, auguri a Facebook, ma è sorta un peccamento E' rosa, auguri rosa! Trent Zilousa perisherlolo . Ernesto No, 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 no Mi raccomando, fai vincere a quel ragazzo là Mi deve comprare le borse e le scarpe Già sta vincendo Mi raccomando, fai vincere a quel ragazzo là 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 Oggi è la festa della...